prendi questa mano singara no ho sbagliato un po prendi questa mano singara ancora un vabbè comunque buongiorno sono nao ecco è il questo è il sesto video del 14 dicembre 2021 come state spero che sta registrando sì va bene comunque oggi anche oggi iniziamo subito il menu di oggi è questo menù di oggi è questo potete guardare prima parte ristoranti italiani familiari a catena di giappone catena in giappone spaghetteria pizzeria modern pasta e poi ristorante caffè saizeria questi due ristoranti a catena sono trovabili non proprio in una città nella parte centrale nelle periferie dove abitano tanti giapponesi e tipo bed town anche c'era gente ci sono delle nelle città dove vanno a dormire dopo aver lavorato in città centrale magari di sera tornano a casa in periferia in quelle zone si trovano questi ristoranti abbastanza facilmente queste spaghetteria pizzeria modern pasta faccio vedere un sito che cosa si mangia che cosa mangiano praticamente giapponesi ok questa è la vedete questa è la modan pasta menu di modan pasta tipo una spaghetteria pizzeria questo diventa un po' grande spaghetti tipo così la meranzana e la pancetta alla siciliana mascarpone e basilico spaghetti alla pescatora con i frutti di mare queste spaghetti alla napoletana originale scritto che queste cose queste sono spaghetti pizza tipo così margherita rosso costa 890 yen in piccolo scritto qui 879 praticamente 890 yen più 10 per cento di iva e diventa 979 credo che ho 8 per cento o 10 8 per cento comunque il senza tassa con tassa frutti di mare salsiccia e maionese e mais tre tipi di formaggi marinara prosciutto crudo e funghi prosciutto crudo e insalata e pomodorini eccetera poi c'è anche il menù di pizza a volontà praticamente pagando una cifra fissa che non è non è altissimo perché questo ristorante diciamo dedicato a una famiglia normale non è un ristorante di lusso o così cerca dieci euro dodici euro tredici euro a seconda delle delle opzioni incluse e la cambiano e cambia varia il prezzo ma da otto milioni otto euro fino a quindici euro così magari con quindici euro si può mangiare spaghetti scusate un piatto di spaghetti e pizza a volontà praticamente camiglieri girano tra le tavole e chiedono gradisce gradisca 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 così e chi desidera che spiegando che pizza in mano il clienti possono prendere le fette che vogliono quindi pizza a volontà poi un piatto di spaghetti poi la soft drink bevande analcoliche alla volontà anche questo e 10 15 euro come voi avete da voi e la sushi or you can eat tipo la questa pizza or you can eat con un piatto di pasta volendo si può eliminare anche la pasta chi vuole mangiare solo la pizza infinitamente e può ordinare solo quel menù escludendo un piatto di pasta questo è mordampasta ci sono stato oggi alle quattro e mezza ci sono andato non c'era nessuno quindi si sentiva quella canzone questa cioè prendi questa mano zingara tipo così poi c'era anche c'era una canzone sempre si sentiva in continuazione le canzone le canzoni italiane degli anni 50 60 70 quindi le canzoni quelle vecchie che davano danno l'atmosfera dell'italia stereotipa alla agli alle orecchie dei giapponesi per questo mettono queste musiche questa queste canzoni italiane e poi il questo abbiamo detto modern pasta società che gestisce e bascia amici bascia amici è una società molto grande che gestisce non so quanti gli stranti ci sono in tutto il giappone 100 200 non ho fatto la ricerca ma comunque si trovano abbastanza facilmente nella parte di tokyo però secondo ristorante a catena della della cucina italiana e saizeria saizeria già alcuni blogger italiani che vivono qui in giappone hanno già parlato credo in tanti video su youtube hanno parlato di questo ristorante questo ristorante è come quello di prima ristorante diciamo popolare a catena dedicati a alle famiglie o alla classe della famiglia normale media quindi sono i piatti i prezzi dei piatti sono abbastanza modici accessibili 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 a tutti però attenzione ma non è che non è non è un ovviamente un distrante di gran livello questo è vero però io ci vado spesso anche gli italiani che abitano qui in in italia apprezzano bene apprezzano tanto ci vanno alcuni dicono che fa schifo ma molti secondo me molti ci vadano questo ristorante saizeria nome un po strano ma scritto bene qui sotto ristorante e caffè scritto qui in giapponese scritto italian wine and cafe restaurant caffè restaurant saizeria ok il menu così menù digitale bellissimo state vedendo sì qui hanno non è una spaghetteria pizzeria come prima è un distrante a i dei piatti molto italiani e non pure questo riso zafferano sopra la carne di manzo tendine credo la parte di con le tendine credo poi questo è pollo alla diavora tipo hamburger penne arrabbiata questo è to to a torfie 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 a ragù di di come si chiama il agnello spaghetti alle vongore un bicchiere di vino bianco rosso italiano credo questo e costa cento meno di un euro un euro e cento trenta yen adesso quindi meno di un euro è un bicchiere ma piccola porzione però è vino rosso vino bianco insarate insarate e questa zuppa minestrone con minestrone con con le lenticchie e poi farro farro è buonissima questa è molto secondo me molto il gusto molto vicino al al gusto italiano autentico questo io ordino spesso qui costa trecento yen solo due euro e mezzo la porzione è piccola perché giapponesi vogliono mangiare preferiscono mangiare ordinare tanti piatti piccoli di tanta varietà quindi ogni porzione è abbastanza piccola vendono anche pane pane costa questo un euro e qualcosa centocinquanta yen questo pane tostato con aglio sopra il costa duecento yen poi salame prosciutto molto mozzarella di bufala anche olio d'oliva sopra una bottiglia magnum non so quanti millilitri non vedo un litro credo mille cento yen meno di meno di dieci euro 8 euro 8 euro 9 euro credo un magnum italiano credo poi spinaci questa è la trippa alla romana credo poi e ci sono le pizze non a volontà ma una pizza costa quattrocento yen cinquecento yen margherita mozzarella di bufara con salsicce tipo wuster credo maese maionese pancetta poi questo mi hanno mi hanno sorpreso questi spiedini cosiddetti arrosticini romani eh li ho mangiati io ma non non tantissimi ma ho assaggiato tante volte a Roma ma qui secondo me questi a importano direttamente questi arrosticini ma sono uguali veramente buoni eh due spiedini costano quattrocento yen arrosticini di agnello poi spaghetti penne questo è spaghetti al nero di seppia e poi ragù pancetta eh peperoncino pure poi queste sono tipo questa è gratinata con la besciamella e gamberetti e penne dentro invece questo è il riso sotto e sopra besciamella e formaggio è con l'agù sopra questo e hamburger ma questi sono non sono italiani per niente ma comunque chi vuole mangiare un po di carne c'è anche questa scelta poi bistecche alette alette fritte di pollo poi questa è da sottolineare e c'è anche dolce dolce questo tartufo nero questo credo che sia importato direttamente dall'Italia perché è proprio quello che si mangia in in nei ristoranti italiani di solito quando voi ordinate eh nel ristorante in Italia in un ristorante in Italia tartufo nero porta questo secondo me uguale sicuramente di produzione italiana e anche questo tiramisù classico scritto ma anche questo è proprio uguale uguale a tiramisù italiano magari non ci credete ma io ci ho vissuto in Italia per 15 anni ho mangiato dappertutto in Italia in tantissimi ristoranti eh di varie categorie eh garantisco che queste queste cose sono quasi quasi autentici uguali ai vostri autentici ok? abbiamo parlato nella prima parte eh adesso e la 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 abbiamo parlato ho messo un link dopo potete vedere se volete eh spaggetteria pizzeria modern pasta ristorante caffè saizeria seconda la parte seconda è conversazione d'emergenza come al solito visto che abbiamo parlato nella prima parte dei 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 che avevano qualche allergia nei confronti di qualche cibo particolare, per esempio aglio o cipolla, grano o latte, anche di nickel, cioè allergia di nickel. Non sapevo di questa cosa, di allergia di nickel, ma ho incontrato anche delle persone che avevano questo tipo di allergia. Quindi, per spiegare ai ristoratori o ai camerieri di togliere qualcosa, dicendo che sono allergico a qualcosa, prima frase, perché in giapponese allergia si dice dall'inglese, credo, allerghi, allerghi, questo, allerghi, allerghi ga arimasu. Praticamente, la traduzione letterale è c'è allergia, c'ho l'allergia, questo. Quindi ho scritto così, come significato, ho un'allergia. allerghi ga arimasu. Se voi dite, excuse me, al cameriere, allerghi ga arimasu. Prego, provate, provate a dirlo, allerghi ga arimasu. Allora loro dicono, ah sì? Dopo, successivamente, questa frase, per far togliere l'aglio dai piatti, dalla cucina. Il ninnyku, ninnyku, sarebbe l'aglio, questo, ninnyku. nukhi, togliere, senza, sarebbe. De, onegai shimasu, particella, onegai shimasu. Onegai shimasu, abbiamo detto per favore, questo. Quindi, ninnyku, nukide, onegai shimasu. Ninnyku, nukide, onegai shimasu. Senza l'aglio, per favore. Quindi, basta mettere, dove c'è questo ninnyku, che sarebbe l'aglio, potete mettere qualsiasi altro cibo. Il latte, formaggio, o grano. Non scrivo tutte le parole qui, sennò diventa un macello qui. Quindi potete vedere, traduttore, magari anche sul Google Translate, magari mettete grano in giapponese, appare komugi, per esempio. Komugi nukide, onegai shimasu. Togliete questo, togliete questo. Ho un'allergia. Allergii ga arimasu. Dite prima questa frase, poi successivamente di togliere il cibo specifico. In questo caso, è ninnyku, che sarebbe l'aglio. Senza aglio, per favore. Ninnyku, nukide, onegai shimasu. Senza aglio, per favore. E questa è la frase. Ok? Chiaro? Questa è la seconda frase. Ok? Allergii ga arimasu. Ninnyku nukide, onegai shimasu. Ninnyku nukide, onegai shimasu. Allergii ga arimasu. Spero che sia chiaro. Ok. Allora, passiamo alla terza parte. Oggi parliamo della storia, di un evento storico. Oggi è il giorno della vendetta di 47 eroni, che è avvenuta nel 1702, che è praticamente 319 anni fa. Circa 319 anni fa. Se voi andate a vedere, qui Wikipedia, anche in italiano spiega bene. Ok? Vediamo. Questo menu, ok. Togliamo. Allora. Aspetti. Questo. Allora, questo. Vedete? 47 eroni. Che cos'è 47 eroni? 47 eroni sarebbero i samurai senza il padrone da cui dipendere, da cui dipendono. Quindi samurai ma senza padrone. Perché samurai per vivere doveva essere, doveva, dove, un samurai doveva essere al servizio di un padrone, un samurai nobile, di categoria superiore. Quindi perdere il padrone significava che perdeva il lavoro, perdeva il tutto, quindi diventa un samurai qualsiasi così e senza stipendio, senza lavoro, senza padrone di cui dipendere. Da cui dipendere. E quindi, ronning è una parola un po' dispregiativa. Un samurai un po' senza radice. Questo è il significato. Che cos'è questa? Ma se andate a leggere bene, questo spiega molto bene, ma brevemente spiegando il samurai, spiego un attimino, eh. Adesso voi state vedendo. Scusate. State vedendo qui. Voi guardate questo. Ok. Allora, spiego brevemente. Che cosa è successo, praticamente? E quando è successo? Abbiamo detto nel 1701 e oggi, 14 dicembre del 1701. Che cosa è successo? Che cos'è questa storia di vendetta di 47 Ronin? Praticamente i 47 Ronin, che hanno perso precedentemente il loro padrone, hanno vendicato il loro padrone, che si chiamava Asano, che è stato costretto a suicidarsi per la colpa di aver tirato fuori il pugnare contro un altro signore, anziano e importante, che era Kira, che si chiamava Kira. Kira, che era il suo supervisore anche, per la preparazione del ricevimento del messaggero dell'imperatore nel palazzo dello Shogun a Tokyo. Praticamente all'epoca l'imperatore viveva a Kyoto e lo Shogun, al castello di Tokyo, dove c'è adesso il palazzo imperiale, viveva a Tokyo, quindi. E una volta all'anno, credo, riceveva un messaggero ufficiale dall'imperatore, inviato dall'imperatore all'interno del palazzo dello Shogun. Perché Shogun è il capo militare a difesa, a sostegno e difesa dell'imperatore, e anche il governatore del paese effettivo. Al di sopra di Shogun c'era l'imperatore, quindi l'imperatore mandava un messaggero una volta all'anno verso lo Shogun. Sì, fino a qui è chiaro, spero di sì. Poi, per ricevere questo messaggero che è importantissimo per lo Shogun, Allora, in quell'anno, che è due anni prima di questa cosa, alla fine di 1698-99, credo, è questo Asano-san, che era il padrone, il feudatario dello Shogun, che governava una zona vicino a Himeji, vicino a Kobe, praticamente, tra Kobe e Okayama, e lui aveva 300 samurai al di sotto di lui, quindi lui è un piccolo governatore, governatore di piccola città, con i suoi 300 samurai. Ma, in quel periodo, lui era al servizio dello Shogun, quindi stava a Tokyo, e lavorava al di sotto di questo Kira-san, questo samurai importante, Kira, che insegnava ad Asano, questo samurai giovane, spiegava come si doveva preparare per ricevere il messaggero dell'imperatore. Però, andando avanti, così lui si preparava, chiedendo indicazioni ad Asano. Alla fine, come l'usanza alla fine di questa preparazione, Asano doveva dare dei doni a questo maestro, diciamo, autofunzionario, Kira-san, Secondo Kira, però, i legali che ha portato Asano non erano sufficienti, quindi si arrabbiò. Quindi ha cominciato a prendere in giro. Ah, tu sei samurai di campagna, del paese piccolo, perché sei, come si chiama, una, non è contadino perché è samurai, perché sei, vabbè, sei piccolo samurai e non ci capisci niente, ha cominciato a dire insultare all'interno del palazzo imperiare. Asano, giovane, sopportava, 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 però questo Kira continuava a offendere questo Asano. Asano si arrabbiò alla fine, si tirò fuori un pugnale, il pugnale che aveva addosso, perché a samurai era consentito tenere solo il piccolo pugnale all'interno del palazzo imperiare, ma non si doveva mai tirare fuori, perché all'interno del palazzo c'è shogun. Quindi, siccome tu sei samurai, quindi non puoi andare in giro senza neanche il pugnale, quella spada lunga no, ma almeno quella piccola c'era, però non la devi mai, non lo devi mai sfidare, ok? Questa era l'allegora molto ferea, però Asano alla fine si arrabbiò, si scoppiò di questo insulto, ha tirato fuori il pugnale, ha cominciato ad attaccare Kira, e Kira si è difeso. Alla fine Asano non riuscì ad uccidere Kira, ma Kira si dice che ha avuto un taglio sul fronte. Quindi Kira ha urlato, uscite, uscite, arrestatelo, qui c'è una persona che ha tirato fuori il pugnale, è successo un macello dentro, è stato arrestato, è processato, immediatamente condannato alla morte, suicidandosi. Quindi seppuku, come voi chiamate harakiri, harakiri è il nome non è giusto, è il nome che secondo me è il nome diffuso in America e poi è andato in tutto il mondo, ma seppuku, seppuku, tagliare la pancia, sventrarsi, si scrive con ideogrammi cinesi, e seppuku, quindi è stato ordinato dallo shogun e lui non può dire niente perché ha violato la regola, così ferrea, quindi lui è stato costretto ad accettare questa condanna, si suicidò quel giorno, quel giorno o un giorno dopo. E in teoria quando succedeva una rissa all'interno di Palazzo Imperiare, in un luogo pubblico così, quando succedeva la rissa, tutte le due parti dovevano essere condannate in qualche modo. Però, stranamente, solo in questo caso, solo quello giovane è stato condannato, Kira no, perché lui era già anziano, molto importante, così autofunzionario, quindi, e poi il shogunato ha ordinato alla famiglia, a tutti i suoi 300 dipendenti samurai di Asano, di chiusura della famiglia Asano e confiscato, hanno confiscato il terreno, quindi ha detto, signori 300 samurai, voi avete perso il lavoro, voi andate dove volete praticamente. Sono stati sciolti. allora questo, ovviamente, i samurai di Asano si sono arrabbiati, si sono arrabbiati, non potevano accettare questa cosa. Tra 300 samurai, alla fine si sono riuniti 47 samurai più 47 samurai federissimi, sotto la guida di un samurai che si chiamava Oishi. Era lui, era vice, il vice direttore di questa, questo casare. Non della parente di Asano, ma lui è praticamente il numero due che gestiva la casa, la casata. Quindi, Oishi ha detto, signori, noi non possiamo accettare questo e vogliamo fare la vendetta. ma dobbiamo prepararci in segreto, assoluto. Quindi, chi è disposto a partecipare a questa, diciamo, vendetta, fa il passo avanti e chi non lo fa può andare via. Cioè, non è che lui voleva costringere costringere 300 samurai a andare a vendicare così pazzamente, diciamo. Lui ha detto, va bene, chi vuole, io vorrei conoscere il numero esatto dei samurai che sono disposti a seguirmi. Alla fine sono usciti fuori 46, tra cui c'era un suo figlio anche. Quindi, 46 più Oishi, Oishi, Kuranosuke Oishi, si chiamava Rui. E sotto la guida sua, questi 47 hanno cominciato a preparare in che modo? Perché non era facile andare a Tokyo all'epoca, spostamento non era libero. 47 samurai, comunque sia, dovevano entrare nella città di Tokyo, superando gli ostacoli, vari ostacoli, controlli delle frontiere, eccetera, eccetera. E mano a mano, loro hanno impiegato addirittura due anni per questa preparazione. Mano a mano si sono, mano a mano, sono entrati fingendo, ovviamente, per far, per far credere ai nemici o al di, diciamo, ai samurai polizia che noi, a noi non interessa per niente, più di quella faccenda, perché tanto casa, casata sano non c'è più. Noi siamo, abbiamo perso il lavoro, quindi adesso io sono un contadino, adesso sono un commerciante, non faccio più samurai. E Oishi pure, fingeva di essere un ubriacone anche. E poi anche il, come se è un povero, il ubriacone e così. Praticamente recitava, recitavano tutti. Però ogni tanto si univano di nascosto e progettavano in modo dettagliato per per il giorno della vendetta. Alla fine hanno fatto la vendetta, hanno deciso di andare ad attaccare la casa, il parazzo di Kira, che sta a Tokyo, praticamente relativamente vicino a Sakuza, in quella zona. Sono andati ad uscire, sono entrati dentro proprio in quel giorno di 319 anni fa, di oggi. Hanno attaccato, alla fine hanno trovato Kira nella regnaia, dove conservavano la legna, con altre persone, due guardie, eccetera, eccetera. Ma Oishi ha messo il faro di candera sicuramente. Ha guardato il viso, perché solo lui conosceva bene il viso di Kira. Ha preso, ha chiesto, sei condannato a morte. Noi siamo venuti per la vendetta del nostro signore. ho portato qui il pugnare col quale il nostro signore si è stato costretto a suicidarsi. Adesso la prego di suicidarsi con questo pugnare. Lui rifiutò. Allora Oishi ha tirato fuori subito la spada, ha tagliato la testa, ha preso la testa. E qui è finita la vendetta. La vendetta è finita, però questi 47 samurai dovevano pagare per questa azione. Ovviamente loro sapevano di essere condannati a morte dopo questa vendetta. sono condannati alla morte. Il shogunato ha concesso la morte di onore che sarebbe il seppuku, suicidarsi con il pugnare. 47 samurai sono stati suddivisi in qualche parte. Dieci di loro sono stati messi, sono stati consegnati in una residenza di un samurai importante che all'epoca nella città di Tokyo intorno al castello dello shogun abitarono tanti samurai importanti. All'epoca ce ne erano 200-300 casate. Quindi intorno al palazzo dello shogun c'erano grande residenze di 300 casate. Ogni casato aveva tre residenze diverse. Residenza superiore, intermedia e poi inferiore. Praticamente tre tipi. Quindi tre per 300, quindi mille. Circa mille residenze, che ognuna era enorme questa residenza e avevano intorno a questo palazzo. E 47 sono stati suddivisi in alcuni gruppi. Un gruppo è stato consegnato in una famiglia vicino alla... dove c'è la torre di Tokyo. Poi dieci si sono suicidati dopo e sono morti. E dopo la morte di tutti i 47 samurai, in più un altro che prima di entrare nella casa di, mi sembra, casa di Asano, si è dovuto suicidare perché è stato detto di rimanere senza entrare dentro. E lui non gli stava bene, a lui non gli stava bene e si è suicidò. Quindi 48 persone sono stati sepolti davanti alla tomba di Asano. Quindi dopo 319 anni ancora questi 47, 48 samurai, federissimi del padrone Asano, stanno insieme vicini, sepolti. Dove? Al tempio Sengakuji. Non andiamo mai con i gruppi turistici italiani, ma un posto, una meta turistica importantissima anche di pellegrinaggio dalla parte dei giapponesi. Ci vanno molti stranieri pure. Faccio vedere Sengakuji e sarebbe questo. Questo è il sito internet, il tempio buddista, questo Sengakuji. Questo è Sengakuji. Questo. Sembra un tempio normale. Solo che dietro c'è il palazzo Grattacero, perché è vicino a Shinagawa questo. Questi sono uniformi che indossarono questi 47 samurai all'epoca. Questo è sempre un rito commemorativo di questi federissimi, 47 federissimi, che si fa ogni anno qui al tempio. Questa è la mappa, magari lo vedete. E... Bauto Sengakuji. Vediamo. Qui, allora, questo è solo inglese. Vediamo. Japanese. In giapponese ci sono più foto, mi sembra. dentro, questo è l'ingresso, questa porta d'ingresso. E dietro c'è il tempio, l'interno del tempio. Questo campanile. Questo è l'auditorio. Questo è un pozzo dove hanno lavato la testa di Kira, dopo aver compiuto la vendetta. hanno portato la testa qui. Prima di portare davanti alla tomba del loro padrone, capo, che è Asano, hanno lavato il sangue qui. Questo è il luogo della tomba, delle tombe. E' visitabile questo. E c'è anche il museo annesso. Museo di questi 47 eroni. E espongono alcuni oggetti appartenenti a questi 47 samurai. Tempio non è grandissimo. Porta d'ingresso. Prima porta. Seconda porta. Tempio. Campanile. Andando qui, andando qui a sinistra, c'è la tomba. Ok. Una cosa interessante e curiosa è che il... Ritorniamo quello di prima. Questi 47 eroni. Abbiamo detto che la tomba sta qui. 10 di loro si sono suicidati in un luogo molto conosciuto, famoso, che ha a che fare con l'Italia. Praticamente l'ambasciata italiana a Tokyo, che è considerata l'ambasciata più bella del mondo, per il suo giardino, perché l'ambasciata italiana a Tokyo era ex legittima. Residenza, cioè non c'è palazzo, ex residenza di samurai importante, dove si sono suicidati, in cui si sono suicidati 10 rognini di 47 samurai nel giardino. Nel giardino hanno messo un monumento che... Aspetti eh. Hanno messo un monumento. C'è un signore. Aspetti eh. Aspetti eh un attenzione. Un signore che ha fatto... Ah, ecco, ecco. Qui c'è. Ho fatto qui un link, dopo vedete. Guardate che... Guardate che... Qui c'è... Potete guardare questo. Un signore che si chiama Kusuya-san ha fatto un blog. Lui ha scritto, ha postato un post con le foto quando lui è stato invitato all'interno dell'ambasciata italiana a Tokyo. Questo è il signore che ha scritto questo post. L'ambasciata italiana, questa foto dell'ingresso. E lui, questo è il giardino giapponese che si trova all'interno della palazzo residenza, la sede dell'ambasciata italiana a Tokyo. E c'è questo laghetto pure. Questo edificio in stile un po' giapponese, ma non è palazzo antico, ma è enorme questo. Bellissima ambasciata italiana. E nella parte contraria, opposta del palazzo, praticamente questo lato, c'è una collina. Vedete? Camminando c'è una piccola collina all'interno del giardino. Qui. E in fondo, sulla cima di questo giardino, che cosa c'è? C'è un monumento questo, vedete? Una lapide commemorativa per consolare l'anima di dieci, soprattutto questi dieci samurai suicidati dopo la vendetta. Questo. È scritto sia in italiano che in giapponese. Questo pare che sia stato eletto, eletta, nel 1939, quando c'era alleanza, credo, tra Italia, Giappone e Germania. Qui è scritto fascio, il periodo di fascismo, fascio, di diecimo anno, non so, dodicesimo anno. Qui accanto è scritto 1939. Quindi scritto sia in italiano che giapponese per commemorare le anime di questi defunti, diciamo. È molto conosciuto. Si dice che... È abbastanza grande questa lapide. Si dice che il... Quello laghetto di prima, questo laghetto di prima, quello che ho sentito io, non so se è vero. Questo laghetto si è creato perché? Per coprire il sangue che si trovava qui sotto, qui sotto, perché dieci persone si sono suicidate qui, sono stati tagliati, la testa di loro è stata tagliata a questo luogo. Quindi è diventato il mare di sangue, ovviamente. Per seppellire tutto questo sangue si dice che hanno scavato la terra che si trovava qui e hanno fatto la collina per coprire tutto il sangue. E diventa, dopo è diventato questo lago. Non so se c'era prima o hanno ingrandito, oppure quando prima non c'era niente a quell'epoca, non si sa. Ma quello che ho sentito io era questo. Questa collina è stata creata per coprire il sangue che si è esteso dopo il suicidio di dieci persone. Ok, quindi dopo magari guardate questo sito, ma scritto in giapponese, ma vedete delle foto che sono interessanti. Ok, allora oggi mi fermo qui. Ho messo anche Sen Gaku-ji, Tempio Sen Gaku-ji. Dopo guardate se vi interessa. Va bene, mi fermo qui oggi. Grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao.